La domanda è questa, che cosa è dovuto il successo mondiale di Dylan Dog? Tutte le nuove uscite di fumetti dovessero naufragare perché questo era successo anche alle testate della Bonelli, però Dylan Dog nacque proprio all'insegna del cerchiamo di fare quello che piace a noi, a noi autori e Tiziano Sclavi dimostrò di avere le qualità necessarie per poter avere il successo con questo personaggio perché in questo personaggio ci fu dentro tutte le letture, tutti i film visti, un umorismo nero ma condito con un elemento di surrealtà che noi vediamo nella spalla di Dylan Dog e che assomiglia non a caso a Groucho Marx, se vuoi tradurre. Sì, il nostro è stato fatto in Italia in Italia, nel parlato di di Dylan Dog, nel Parlamento di Ostia, non è stato molto buono di un'azienda, perché il piac è molto bene, molto forte, e quindi pensano che stanno facendo qualcosa che nemmo piacciono, che nemmo piacciono, che nemmo piacciono, e poi provano fare qualcosa che stanno facendo qualcosa di più. E poi Tizianos Klávi pensano che adesso è l'idea di fare l'idea, e poi inizia a storia di Dillandog, che ha horror e humor, ironia è l'idea, e soprattutto perché il Dillandag, il partner, il Groucho Marx è un figlio di Groucho Marx, qui è molto aiutato a Dillandag, e poi l'orror e l'ironia è una cipregény. E così credo che il sikello è iniziato, che il sikello non è iniziato. I riferimenti dei primi numeri di Dillandag erano già molto evidenti. Innanzitutto film come Mel Brooks, Frankenstein Jr., Ghostbusters, i film di Dario Argento, i libri di Stephen King e tante altre citazioni che venivano inserite nelle storie di Dillandag e che dimostravano che Tiziano Sclavi mirava molto in alto, non voleva fare un fumetto popolare e basta. La sua cultura glielo ha permesso. Grazie a tutti i filmi di Dillandag, Il città è anche in cultura, anche in cani, anche in musica, anche in musica. Molto di più di tutto ciò che è già stato, è stato anche in dilando. La domanda praticamente è che l'ostile di disegno qualcuno vede una somiglianza con Igon Schill, se è una cosa casuale o una cosa voluta? Con Igon Schill and Dog ero già un ammiratore di questo artista che era stato a lungo ignorato dalla grande letteratura sull'arte ed era stato tacciato di essere quasi un allievo di Gustav Klimt, ma in realtà lui rappresenta proprio il momento di passaggio della crisi dell'impero austro-ungarico e dell'avvento del grande contributo che Freud ha dato all'indagine dei sogni e ha fotografato perfettamente questo passaggio di crisi che si veniva a creare in quella generazione. Il suo disegno è particolarmente interessante perché soprattutto nei disegni e negli acquarelli lui dimostra una tale sintesi grafica che è ricca di espressività fino al limite dell'espressionismo e fotografa chiaramente la crisi esistenziale dell'artista ma anche di una generazione e insiste anche su degli elementi proprio della malattia mentale. Tutto questo in Dylan Dog viene ritrovato e indagato e per questo motivo Tiziano Sclavi scelse me come primo disegnatore di Dylan Dog. Sì, non è stato un'escrizione, perché lui è stato un'escrizione, perché lui è stato un'escrizione, Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. In realtà Claudio Villa che è stato il primo copertinista e che aveva studiato le sembianze dei personaggi centrali, soprattutto Dylan, era già stato deciso che sarebbe stato lui il copertinista. Però in corso d'opera, quando appunto siamo arrivati a due anni mi pare, lui ha deciso di dedicarsi ad altro e voleva disegnare più che altro tex. Quindi io che avevo già disegnato una copertina alternativa del primo numero di Dylan Dogg, sono stato scelto per continuare il lavoro di copertinista. E' un compito che tengo tuttora, soprattutto per i numeri di serie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Epp esempio si diceva. Io ovviamente crescendo in Italia avevo a disposizione i maestri italiani del fumetto e questi erano alcuni conosciuti internazionalmente come Ugo Pratt ma ci sono stati altri autori come Dino Battaglia, meno conosciuti, Sergio Toppi, Aldo Di Gennaro e questi erano tutti sul Corriere dei Piccoli che era una rivista che leggevamo noi bambini. Poi ci sono stati anche altri autori internazionali come Alberto Breccia, argentino, e ho recuperato anche autori molto più vecchi di generazione come Alex Raymond, quello di Flash Gordon e Kid Rip Kirby, da cui ho imparato moltissimo proprio per un disegno diciamo accademico ma non troppo e che è stato soltanto utile per imparare a disegnare in maniera classica. Dopodiché ovviamente ho cercato di svincolarmi e mi sono riferito a Egon Schiele, Egon Schiele è lo stile della secessione insomma, Coloman Moser, Felicien Andri e tanti altri. Li ho guardati con molta attenzione e quello che è venuto fuori è quello che faccio adesso. Grazie. Grazie a tutti. 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 In Italia, come in tutto il mondo, associato alla crisi che c'è in tutta l'editoria, esiste una disaffezione dei lettori alle serie classiche come un personaggio che si ripete nel tempo, ma stanno acquistando sempre di più interesse quelle storie che vengono anche chiamate graphic novel, che presentano non è più nemmeno che un testo come se fosse un testo nel tempo, fosse un romanzo, ma realizzato con i disegni e questo consente a molti autori giovani di cimentarsi nel fumetto e possono anche sfruttare quello che offre la tecnologia, cioè internet. Ci sono ormai molti autori che cominciano a lavorare online e per queste applicazioni che vengono a crearsi con i tablet c'è una possibilità di sviluppo, dato che il mezzo si può usare in maniera diversa che dal foglio normale di carta di un libro, la fruizione comincia ad essere più interattiva. Quindi il mondo del fumetto si sta trasformando in qualche cosa di più complesso e non è più soltanto quello che si trova nella libreria. Ok. Igen, azt gondolja, hogy most a Lasserszországban, mint a vilagban, valsságban a comics vilagban is, a comics piacon is. A piac nem nagyon erős, nem nagyon jó, de gondolja is, hogy most az a sok művész, meg az a sok fiatal művész, tud kezdeni valamit csinálni, mert az interneten keresztül lehet már kezdeni rajzolni, írni és így publikálni rajzokat vagy szorikat. Azért, mert a tablet, meg az az applikácia, ami az internetenben van, tud nagyon segíti a kezdésnél. És az is fontos, mert most inkább jobban megy az a grafik novel, mint ilyen új koncept. Akkor regény és képek együtt. Nem kép regény, de ilyen grafik novel típusú, ahol kicsit más a történet. Viszont a régi karakterek, például a Lasserszországban, a klasszikus karakterek kicsit rosszabban megy, mert az ember már nem nagyon ad a figyel. De viszont az internet, meg az az új applikációk, meg az új fiatal rajzolók tudnak most kezdeni és publikálni valamit. És aztán fejlődik a komiks világ, a képek regény világ valami újabb. De csak várni kell, amit lehet. Most egyelőre nincs ilyen eredmény még. Végezettőr az érdeknagy olvaszott a már magyar kép regent. Siis ha letto fumetti ungheresi o conosci autori ungheresi? Eh, mi dispiace tanto, ma in realtà mi piacerebbe conoscerli, ma da noi in Italia non arrivano fumetti da queste parti. Però magari qualcuno lo conoscerò in questo soggiorno. Igen, sajnálom, de nem, még nem, mert Olaszországban nem volt magyar szerző, nem volt magyar rajzolók, és akkor én nem ismertem. De láttam itt a bőrzen, még remélem, hogy a budapesti tartaszkodás alatt tudok még ismerkedni velük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Grazie.